Alcuni calciatori sono andati via e portano con sé delle cose, perché gente come Ospina, Goulam, Koulibaly, Mertens, Insigne portano con sé molte cose. Altri, state zitto, altri ne sono arrivati e portano con sé un nuovo entusiasmo, altri ne arriveranno e porteranno con sé altro entusiasmo. Lo fate sta zitto quello lì per favore. Questo è il calcio, quello che non deve andare via e che non deve mancare mai è il vostro supporto, il vostro entusiasmo, perché quello non è sostituibile, non si può ricomprare. Grazie. Stiamo uniti e forza Napoli! Il mister non è solo!